E' successo tutto in un attimo, una sequenza di immagini già vista ad ottobre quando in Brianza crollò un altro ponte, anche oggi scene di morte, paura e di terrore. Una giornata di sole in A14 con il traffico regolare sulle due corsie nel tratto tra Loreto e Dancona Sud, d'improvviso però lo stianto sotto il cemento di quella che era una struttura provvisoria posizionata a sostegno di un cavalcavia, un SUV, un Nissan Qascai con a bordo una coppia, marito e moglie di 60 e di 54 anni originari della provincia di Ascoli Piceno ma residenti nel Teramano. Sembra fossero diretti ad Ancona per una visita medica. Feriti anche due operai della BEC che eseguiva i lavori per l'ampiamento dell'autostrada. Si tratta di due rumeni, uno di 56 e l'altro di 46 anni. Sono precipitati da un'altezza di circa 7 metri. Ricoverati all'ospedale di Ancona dove sono giunti in elia ambulanza non sarebbero in gravi condizioni. Uno si è fratturato un polso, l'altro alcune vertebre. L'incidente all'altezza del chilometro 235 più 800 in località Camerano in provincia di Ancona. Autostrade per l'Italia spiega che il ponte crollato sull'A14 era una struttura provvisoria posizionata a sostegno del cavalcavia che era chiuso al traffico. Il ponte si è spezzato ai lati, stiacciando a terra proprio mentre transitava la Nissan con i due coniugi rimasti uccisi. Stando a quanto si è appreso la costruzione era già esistente ma sulla stessa erano in corso lavori di manutenzione affidati a due diverse ditte. Sul posto la polizia autostradale, diversi mezzi dei vigili del fuoco e del 118 e due eliambulanze di Marche Soccorso. La 14 è stata subito chiusa al traffico, serviranno ore forse giorni per le indagini e per i lavori di riapertura.